buona e santa serata a tutti questo giorno volge al termine ed è bello salutarci augurarci un riposo sereno una notte tranquilla ma soprattutto metterci sotto lo sguardo amorevole e misericordioso di Gesù sotto lo sguardo e amorevole della nostra mamma celeste e vogliamo invocare la santa benedizione nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amén padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amén il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo vi abbraccio vi auguro buonanotte e a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti